Musica Musica Grazie a tutti. Ma dove c'è il ferro? Ah, che caricavo le 300 Sì C'è il capo di ricerca Oh, batteria da canto Che stavo dicendo? Oh, no, ho preso quello No, no, ho preso quello Ho preso No 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 A quattro scherzi Sì 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 Mi sembra che quello di Giorno Com'è Luca? Com'è Luca? Io ho due strumenti, uno che ti dice il voltagno e poi fai la regolazione fine e tempo. Grande! Grazie!